Come dei in terra, e questo è il titolo del saggio di Arnaldo Caruso, dedicato all'antica Sibari e presentato a Cosenza nella dimora storica di Villa Rendano. Sibari, la città fondata da Colonia Key nell'VIII secolo a.C., dopo meno di due secoli divenne una metropoli di oltre 300.000 abitanti. Il libro vuole dire che noi dobbiamo essere orgogliosi della nostra tradizione, delle nostre storie. Noi abbiamo avuto una delle più grandi città del passato, una metropoli, che è stata culturalmente evoluta, multietnica, multireligiosa. È stato un unicum nel passato, nella storia stessa. Forse per questo è stata distrutta dal mondo greco, perché lei greca non lo era più, negli ideali greci. E l'idea di avere un ricordo così importante deve renderci fieri perché questo territorio possa riscoprire non solo le sue radici, ma anche pensare che ancora lì sotto c'è la vera Sibari, perché una città di 300.000 abitanti, una metropoli più grande enormemente della sua piccola periferica Colonia di Poseidonia, che sarà Pestum, ebbè non può essere il niente. Ecco, Pestum ha i suoi templi, ha le sue cinte murarie, ha la sua bellezza. Immaginiamo che Sibari dovrebbe darci molto, molto di più. Alla grandezza di Sibari non sempre gli storici hanno reso giustizia. Il saggio di Arnaldo Caruso, edito dalla casa editrice Luigi Pellegrini, vuole restituire alla storia alcune riflessioni importanti attraverso una lettura attenta e documentazioni archeologiche. La casa editrice Pellegrini, sin dalle sue origini, già quando c'era papà che dirigeva la casa editrice, ha sempre cercato di rivalutare la nostra terra, in tutti i sensi, da un punto di vista letterario, archeologico, storico, industriale, eccetera. Questo libro vuole in effetti raccontare una Calabria bella, una Calabria buona, una Calabria produttiva. C'è una città, una metropoli. Ad oggi è arrivata solo una piccolissima parte a noi. Il resto è ancora tutto giù. Perché non rivedere un po' le nostre posizioni e cercare di far diventare la Calabria quella che realmente è? C'è una grande regione che è madre di grandi civiltà. Su questo noi abbiamo puntato tanto. Io personalmente sono rimasto molto colpito dalla passione che ha messo l'autore in questa ricerca e in questo studio. E devo dire che mi ha coinvolto tanto da pubblicarlo e da unirmi in questa lotta, in questa battaglia, in questa ricerca della Calabria buona, la Calabria bella.